due parole visto che si parla di un libretto che ho scritto con grande sofferenza e con forti resistenze che l'espressione di uno stato di disagio da parte di un anziano professore di storia che non riesce più a vedere quale sia il posto dell'insegnamento e dello studio della storia non diciamo nel sistema intellettuale nella cultura internazionale diciamo nella sua collocazione specifica all'interno della società quale sia la sua funzione ho reagito con questo scritto marginazione progressiva che si è tradotta fino alla cancellazione della presenza dell'insegnamento della storia nel liceo a livello massimo cioè della crescita giovanile le ultime notizie su come sarà questo esame di maturità rientrano nel sistema dei come sono stati chiamati dei regali insomma che il governo fa dei conflitti con forti per sopravvivere cioè un esame di maturità ancora più leggero forse neanche uno scritto certamente la storia non avrà nessun posto ebbene questa cancellazione è arrivata non improvvisa è stato l'esito di un processo generale che non riguarda solo l'italia ma bisogna riflettere su quello che si sta facendo e questo libro è una specie di grido d'allarme perché l'impressione è che quello che era una volta il banco di prova della preparazione alla vita pubblica quello che era una volta lo strumento per capire la politica e averci una parte la politica come gestione della società gestione consapevole oggi e quello spazio è vuoto è vuoto ed è riempito in realtà da interessi privati fortissimi che diciamo aiutano a capire il perché della polverizzazione della visione del mondo del rigurgito di cose che credevamo ormai diciamo giudicate ormai sistemate nella concezione della coscienza comune da qui nasce diciamo la quantità di domande che ho fatto in questo libro che possono essere allargate ma non riesco a dimenticare il fatto che l'insegnamento della storia che una volta è stato un insegnamento centrale del sistema universitario tedesco metà ottocento luogo di formazione dei politici i politici dovevano dalla storia capire qual era la loro funzione quale scelte dovessero fare ne ricevevano quella che oggi diciamo l'immagine del progetto che avrebbero realizzato erano degli storici pratici come fu detto nel da un grande docente tedesco della storia nel suo manuale di storica ebbene il problema oggi si presenta con questi caratteri e la discussione recente che gli italiani hanno potuto seguire ha dato prova di questo vuoto la richiesta di una visione in fondo era la dichiarazione da parte dei politici di storia attivo storici non sono neanche pratici che siedono nel nostro governo nelle nostre camere la dichiarazione di un vuoto che tutti avvertono può la storia dire ancora qualcosa o deve diventare semplicemente un esercizio di per sé bellissima molto divertente vero da coltivare nel privato delle proprie idee con pochi amici questa la mia domanda mi presento sono vincenzo la venia sono stato chiamato anche così coordinare la serie di domande che porremmo ad adriano prosperi su questo testo leggibile ma che inquieta il lettore e penso che lo inquieti al di là della generazione a cui appartiene per nascita diciamo è un testo che che farebbe bene anche le persone più giovani leggere e c'è una riflessione che riguarda anche il nodo oggi della trasmissione della storia della memoria che compare in questo testo anche a proposito delle nuove generazioni perché il libro e non c'è sede migliore per presentarlo del centro primo levi perché il nome di primo levi compare spesso mi pare nelle pagine di questo libro correggimi se sbaglio adriano e è un testo che riflette sul rapporto in realtà tra storia e memoria quindi non c'è solo la storia ma c'è anche la funzione diciamo così civile della memoria ma anche del suo opposto cioè cosa serve l'oblio l'oblio è utile o è dannoso la storia è utile o è dannosa domanda come sappiamo che è da nice molti decenni fa e che qui si ripropone in un momento di passaggio terribile cioè insomma l'impressione l'impressione che promana da queste pagine è quella appunto di una distruzione del rapporto col passato quindi anche un libro che riflette non solo su storia e memoria che spesso sono termini che si sovrappongono ma anche più semplicemente sul rapporto con con il tempo con questa come dire con questa basilare funzione antropologica che quella del rapporto tra uomini e tempo insomma c'è una seconda una terza parte che sono un excursus diciamo così quasi storiografico cioè come si è costruita la storia di chi scrive storia dal momento dell'epica e della nascita della storiografia classica ma anche della 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 storia sacra del mondo ebraico fino alle trasformazioni del cristianesimo per poi arrivare alla rottura rinascimentale alla a quel nodo che la nascita dell'antiquaria nel seicento e poi della funzione della storia prima come ancella delle di un'idea di progresso durante l'illuminismo la il concetto di civilizzazione che compare per poi passare a un ottocento in cui la storia diventa funzione dello stato funziona della formazione dei ceti dirigenti dello stato nazione soprattutto nel mondo tedesco che elabora anche un'idea di contrapposizione con il resto dell'europa attraverso l'uso del passato sono la seconda e la terza parte quella che si legge davvero come una bellissima cavalcata nel modo con cui gli storici hanno scritto il passato gli storici di mestiere ma c'è una prima parte e c'è una postilla diciamo una eh ci sono una serie di pagine finali in cui invece ci ci si addentra in i nodi più profondi si suppone per esempio nella prima parte che è più dedicata alla memoria ma non nel senso teorico nel senso in cui hanno provato a elaborare il concetto di memoria e di memoria collettiva interpreti come al vax come a lei da asman ma anche negli ultimi trent'anni ci si è posto il problema del rapporto tra memoria storia in testi che non a caso vengono dalla migliore intellettualità ebraica della seconda metà del novecento cito solo i nomi di todorov o quello di vidal na che per dirne solo solo due la tesi di fondo espressa nelle ultime pagine del libro è quella per cui negli ultimi trentuno anni perché qui c'è un 1989 che ha una funzione di spartiacque in questo testo che torna nelle parti finali l'idea che la storia fosse finita lo disse Francis Fukuyama cioè che il conflitto fosse finito e che la storia fosse una specie di arnese eh che il conflitto finisse nella vita reale ma anche che la storia come interpretazione dei conflitti degli esseri umani fosse in sostanza un arnese da mettere in armadio eh e si riflette su questo sostanzialmente cosa è accaduto dall'ottantanove in poi ci sono una serie di cose che hanno fatto irruzione e che sembrano nello stesso tempo minacciare un'idea positiva della memoria un'idea positiva persino dell'oblio nella misura in cui in qualche modo sana le ferite del passato e permette in qualche modo di andare avanti una delle funzioni del non ricordare anche quello di permettere ai singoli ma anche alle comunità di eh far passare il passato un passato che però nel ventesimo secolo è ingombrato diciamo così dalla vicenda dello sterminio degli ebrei e dunque di qualcosa che è davvero un passato che non passa e che una è un abisso in cui è sprofondata l'umanità e con cui bisogna fare i conti e con cui negli ultimi anni si ha l'impressione che si facciano male i conti davanti al ritorno non dei processi di memoria ma dei processi di identità e anche di razzializzazione delle differenze un nodo che questo libro fa emergere molto chiaramente la storia non è finita nell'ottantanove ma si è rotto un rapporto appunto con la memoria e con la storia e tutto questo ha delle cause magari ci torneremo poi in sede di domande ci sono o potremmo iniziare da qui potremmo iniziare a porci una serie di domande poi lascio la parola all'altro ospite in che senso per esempio si può parlare dell'ottantanove o comunque degli ultimi trent'anni come di una liquidazione del senso della durata della storia cito cito proprio dal testo perché qualcosa si è rotto dopo l'ottantanove perché si è rotto qui ci sono una serie di cose grandi che vengono appena accennate in questo libro che sono anche lo sprofondamento della tradizione cristiana e quindi di un'idea di salvezza c'è anche questo in questa rottura e c'è la fine della lotta di classe c'è la fine dell'idea che si potesse progettare il futuro si può dire dunque questa è la domanda che uno dei nodi è proprio la perdita del futuro anzitutto oltre che del passato qui in questo testo viene citato Ernst Bloch non si cita invece Koselleck o Artog che hanno riflettuto proprio sul rapporto tra passato presente e futuro e come il passato in qualche modo non possa neanche essere elaborato senza una nozione di futuro quando qualche anno fa Enzo Traverso ha scritto questo testo interessantissimo che è Malinconia di sinistra rifletteva oggi il centenario della nascita del PC su come in qualche modo si è rotta anche una memoria di quella parte diciamo che ha combattuto in nome di un'idea di futuro di un'escatologia però molto secolare come era quella del riscatto diciamo così dei ceti vinti e subalterni quel mondo è finito appunto nell'ottantanove l'impressione che complessivamente ci sia stata una liquidazione del futuro e la domanda è ma può esistere un rapporto fecondo col passato senza un'idea di futuro senza un progettare qualcosa che sia in futuri questa è io mi inizierei diciamo chiedendo questo è un'ottima domanda è un'ottima domanda non so se attendere l'intervento di Massimo sì forse è meglio allora intanto grazie per molti argomenti e molti importanti grazie grazie buongiorno buongiorno grazie Adriano Prosperi grazie a Vincenzo Lavegna sono molto lieto di partecipare a questo a questo incontro come ho letto questo libro e come ho ho legato la lettura di questo libro ad altri che sono qui sparsi sul mio tavolo ma la prima cosa che mi viene in mente di da dire che non è un pamflet non è uno scritto di occasione ma è una riflessione anzi direi per usare la un'immagine leviana è una è uno studio pacato sul presente anzi direi forse qualcosa di più è uno studio antropologico sulla condizione umana nel tempo presente da un particolare punto di osservazione cioè da chi osserva un fenomeno che ormai ha assunto dimensioni amplissime e cioè il fenomeno della come appunto cita il titolo del libro che è il fenomeno della distruzione del passato e vorrei proprio iniziare da da le prime pagine del del libro di Adriano Prosperi e in particolare da un passo eh tra gli autori più citati insieme a Primo Levi insieme a Mark Bloch c'è anche Eric Osborne e il passo di Eric Osborne che eh Adriano Prosperi ci fa tornare a a a rileggere eh credo che sia uno dei punti di partenza della sua riflessione un passo tratto da uno dei suoi libri più famosi con un titolo molto fortunato soprattutto il titolo italiano più che il titolo in originale e e quindi non vorrei annoiare nessuno ma vorrei credo che sia importante anche perché Adriano Prosperi dice eh con parole degne di attenta lettura ecco quindi è lui stesso che sottolinea la sua stessa citazione eh cito da Osborne la distruzione del passato o meglio la distruzione dei meccanismi sociali che connettono l'esperienza dei contemporanei a quella delle generazioni precedenti è uno dei fenomeni più tipici e insieme più strani degli ultimi anni del novecento la maggior parte dei giovani alla fine del secolo è cresciuto in una sorta di presente permanente nel quale manca ogni rapporto organico con il passato storico del tempo in cui essi vivono ecco per curiosità poi mi sono andato a vedere l'edizione originale e eh e a proposito di quei fenomeni più tipici e più strani beh insomma forse avrei usato una traduzione un po' un po' diversa perché non è tanto strange e fenomeno ma eh iri fenomenon cioè eh più che strani sono inquietanti fenomeni e qui credo che la parola l'inquietudine appunto che Osborne eh osserva e nota nel eh ripeto siamo nel millenovecenta novantaquattro e eh eh è sicuramente un punto di partenza almeno dalla mia lettura del libro di eh Adriano Crospe quindi il libro uscì nel novantaquattro e eh e Osborne poteva certo immaginare eh che pochi mesi prima e cioè il trenti aprile del millenovecentonovantatré al CERN di Ginevra era stata presa una decisione che avrebbe completamente trasformato il mondo e cioè si decise di rendere pubblica la tecnologia che era la base del World Wide Web queste tre V le tre W che dopo poco diventarono l'acronimo più importante del più famoso del mondo ecco è interessante questo incrocio no tra una riflessione questo sincronismo questo sincronismo tra la riflessione di uno storico che in qualche modo fa il bilancio di un secolo e il fatto che proprio negli stessi anni sta accadendo qualcosa che dà vita come dire a un nuovo inizio a un nuovo inarrestabile oggi lo possiamo dire e imprevedibile inizio dove e anche questo è una cosa forse da sottolineare non è la politica essere protagonista ma è la scienza la tecnologia che produrrà non solo una rivoluzione nel mondo del lavoro ma trasformerà ogni esperienza umana anzi entrando nella nostra vita quotidiana modificandolo radicalmente e perché questa questo collegamento beh prosperi da attento osservatore del presente e da esperto esploratore di nuovi mondi lo sappiamo bene dedica alcune acute riflessioni proprio a questo nuovo presente cioè Osborne è il punto di partenza di un libro che entra nel presente con la forza dello storico e della riflessione dello storico e qui mi permetterei proprio di citare un passo in cui la riflessione di Adriano Prosperi è quanto mai acuta non c'è conquista senza perdita osserva e quello che si è conquistato è nell'ordine della velocità orizzontale più che in quello della profondità a questo si somma un dato sociale dominante tutto il nostro sistema è ora orientato verso il fare più che verso l'agire e il fare è orientato al prodotto mentre l'agire è orientato al soggetto ecco insomma da questa riflessione è chiaro che siamo di fronte a una rottura una discontinuità epocale una rivoluzione mentale di cui l'anziano professore di storia come si è definito è una guida quanto mai importante per tutti e qui ovviamente come sottolinea Prosperi cambia il nostro modo di il concetto di distanza e il concetto di tempo storico radicalmente e quel presente permanente di Osbaum nel 24 ormai è diventato molto più inquietante quindi la prima domanda che vorrei fare Adriano Prosperi e che in parte è sicura è sicuramente presente nel libro è se è possibile fermare o se è possibile non dico invertire ma rallentare questo processo e su questo la risposta e mi collego a quello che appena detto Vincenzo Lavegna è una parola che non è nel titolo ma che sottintende ma che è sottesa tutto il libro cioè il futuro c'è uno dei punti fondamentali secondo me che ho trovato interessantissimo di questo libro è che il richiamo alla memoria non basta questo è un punto capitale non solo il richiamo al culto della memoria ovviamente qualunque monumentalizzazione della memoria è un pericolo enorme per tutta la storia per tutta l'idea di storia che noi abbiamo ma anche nel senso più buono e positivo è onesto la memoria da sola non basta ecco questo credo che sia un punto importante cioè per invertire la rotta c'è bisogno di un futuro come appunto aveva sottolineato Vincenzo Lavegna c'è bisogno c'è bisogno di una speranza da realizzare e qui tutta la parte centrale del libro ed è una parte quanto mai piena di riferimenti è proprio su quest'idea del futuro che è al centro della storia del passato insomma che sia la fiducia del futuro dei lumi di un condorsè o che sia la fiducia nel futuro come salvezza o come di ritorno di Cristo interna o il futuro delle classe dei proletari create dalla rivoluzione industriale ciò che conta è comunque che questa idea di futuro ha sempre spinto a leggere il passato e a conoscerlo ecco io mi fermerei qui e dare la parola ad Adriano grazie prosperi su queste osservazioni eh partirei da quest'ultima eh sottolineatura della questione del futuro io eh sono così convinto che senza la testa del futuro non ci può essere eh diciamo sguardo sul passato tentativo di diciamo sapere dove siamo da dove partiamo e ho sintetizzato in questa citazione eh di di S. Eliot eh che figura come epigrafe il tempo presente il tempo passato eh non possono eh diciamo sono forse presenti nel tempo futuro il tempo futuro è eh diciamo contenuto nel tempo passato e ho finito con la con quella citazione di Walter Benjamin sul sul balzo della tigre diciamo per diciamo per conquistare per conquistare diciamo la la visione la visione del futuro per affrontare il futuro il problema è un problema diciamo che io avverto autobiograficamente per essere nato in tempi lontanissimi in un'Italia che stava diciamo per entrare nella seconda guerra mondiale per aver vissuto quel periodo per aver vissuto soprattutto la grande ondata di speranze che ha percorso eh tutto il nostro paese subito dopo con la liberazione ecco eh non riconosco più il mondo in cui sono nato ed è ovvio sono figlio dei miei tempi anch'io ehm e quella che mi pare è venuta meno appunto è quella speranza e quella speranza si incarna diciamo si incarna intanto nella volontà di eh tenere conto delle terribili rotture che sono avvenute durante la seconda guerra mondiale con la Shoah eh per questo mi sono permesso di criticare diciamo la linea storiografica proposta dalla Presidente della Commissione Europea in un documento che o nel documento del Parlamento Europeo che come dire la rappresentazione della povertà con cui questo continente storico questa cultura storica europea eh oggi si colloca nel mondo non si può cancellare la Shoah non si può parlare della seconda guerra mondiale con quella superficialità eh il nostro punto di partenza è quello e da lì non possiamo muoverci perché se perdiamo memoria di quello diciamo saremo dei frammenti quello che ci stanno che stanno cercando di renderci coloro che si sono impadroniti di quelle eh possibilità tecniche a cui Massimo faceva riferimento io ho letto con grande interesse in questi giorni un trattato di una studiosa che si chiama Shoshana Zuboff che si intitola nella traduzione della Lewis eh il capitalismo della sorveglianza che diciamo risponde ad una domanda che si era posto eh in un libro molto bello che ha coinciso con la fine della sua vita il filosofo e il mio grande amico Remo Bodei però eh la questione del dominio la questione della della intelligenza artificiale chi saranno gli schiavi del futuro saranno gli automi che realizzaranno il lavoro che gli schiavi facevano ovvero nell'Atene di Pericle o saremo noi stessi assoggettati dall'intelligenza artificiale che si muove attraverso gli automi. Temo che la risposta mia sia soprattutto quella della Shoshana Zuboff sia soprattutto la seconda cioè il fatto che diciamo eh se io mi muovo nelle strade di questa città vedo i ragazzi che vanno a scuola eh i quali stanno imparando dal loro eh dal loro cellulare vero eh le cose che gli importano stanno ricevendo informazioni e stanno dandole e dietro a quelle informazioni che poi più tardi altri andando al lavoro a fare la spesa eccetera eh daranno vero al loro eh infallibile compagno di di vita da quelle informazioni ci sarà una entità privata vero un grande potere economico e finanziario che trarrà tutte le informazioni per come riempirci la testa per come guidare le nostre scelte e se non si pensa a questo al fatto cioè che siamo stati spossessati della costruzione della nostra cultura in base ad un apparato tecnico che è stato privatizzato non ci rendiamo conto della drammaticità della nostra condizione per questo la storia non serve più a cosa serve la storia per qualche informazione su su personaggi o date per affrontare l'esame di storia forse l'esame di storia intanto viene marginato no quello che serve a noi è recuperare la coscienza dello spessore del tempo e della dimensione della della prospettiva del futuro per agire da esseri consapevoli e liberi e questa libertà io non so come verrà conquistata ricordo che appunto nell'epoca del della grande storia tedesca della grande storia tedesca ricordo quell'inizio indimenticabile del 18 brumario del 18 brumaio di luigi buonaparte di max che ricorda la famosa dichiarazione di hegel che eventi importanti e personaggi storici si presentano due volte nella storia e marx chiusò dicendo si è dimenticato di aggiungere che la prima volta sui compaiono in forma di tragedia la seconda in forma di di farsa ecco allora c'era una tale fiducia nella storia nella fase esplosiva della rivoluzione industriale nella fase in cui i filosofi cominciano a pensare a come cambiare il mondo c'era una tale fiducia nella storia che la si vedeva come qualcosa che poteva ripetersi quest'idea della ripetizione della storia affascinato allora per generazioni vero non solo gli studiosi ma i politici vero le folle insomma la comune esplode come ricordo della rivoluzione dell'89 quanto quanto a lungo è durato questo mito della rivoluzione fino a quando il novecento è esploso vero nel conflitto fra grandi dittature la libertà è diventata l'ultimo lamento di una filosofia idealistica prima di abbandonare completamente la presa ecco adesso noi siamo stati privati dal professore di scuola media che trascina o di università che trascina il suo piccolo compito in un angolo riposto della facoltà di lettere ma vi rendete conto che cos'era la storia che cosa è diventato un insegnamento praticamente inutile perché per nessun esame pratico per nessuna prospettiva di lavoro sarà richiesta la conoscenza della storia quindi qualcosa da immarginare qualcosa che l'ultimo ministro italiano deve capo cancellare senza senza rimorso ecco questo questa fine della storia questa fine del futuro ha reso tutti siamo poverissimi impotenti alla mercè delle fanfaluche delle follie vero delle sindrome cospirative che hanno devastato ovvero il mondo durante l'anno del covid 19 e e noi non possiamo servire a niente possiamo certamente diciamo ripeto trovare piacere a studiare raccontare le cose che studiamo ma lo facciamo in quanto intellettuali che giocano ad armi impari vero con i con i narratori con i romanzieri con la letteratura di consumo che una letteratura che invece macina e propone tragedie terribili delitti in mani eccetera eccetera quindi la speranza la memoria e da questo un esame della diciamo del percorso molto sommario l'esame molto sommario vincenzo assolutamente ragione a ricordarmi tanta letteratura che ho che ho trascurato insomma che avrei potuto che avrei dovuto utilizzare ecco come in esso appunto passato futuro in in altri importanti autori insomma ecco ma coselle tra gli altri più casa in maniera più casalinga mi sono riletto di recenti delle osservazioni degli ultimi anni di paolo prodi uno studioso che ha alnesso storia politica e al alla definizione professionale vero dello storico ha dedicato le sue riflessioni le sue amarezze i suoi tentativi di portare la storia nella politica queste di queste osservazioni di paolo prodi appunto ci conducono davanti a quello che è diventato rispetto al sommario di storica di droisen il lavoro dello storico completamente sganciato dalla politica non è un problema diciamo da poco non è il fatto soltanto di avere collocato le nostre spalle lo stato nazione e l'educazione che il professore dava ai suoi giovani che poi andavano entusiasti a morire pro patria mori nel grande macello della primavera mondiale non è solo questo è proprio il fatto che la nostra emarginazione emarginazione della storia come come luogo di immersione di chi nasce vero che prende posizione prende posizione nel mondo guardandosi d'intorno e cercando di capire che cosa lo aspetta nel futuro per l'esperienza che gli arriva del passato guardando a questo ci si rende conto del cammino percorso e ci siamo ci si rende anche conto della fonte che è stata ricchissima per la ricerca storica tutto il nostro discorso ruota intorno a questo problema della memoria al ricordo di primo levi al giorno della memoria che ci aspetta è già l'idea che esista un giorno solo della memoria anche se si è tentato di moltiplicarlo ma insomma che esista solo un giorno la memoria su 365 giorni l'anno dovrebbe farci riflettere ecco ma mi ha fatto mi ha fatto diciamo capire che in realtà i moltamenti della ricerca storica sono stati legati a rotture continue di continuità quando davanti appunto all'improvviso mutare del mondo si è agganciato un diverso passato si è scoperto per esempio il mondo antico con la crisi del mondo medievale con la crisi del cristianesimo che aveva retto la visione del mondo e la testa della fine del mondo e la concezione della storia del mondo fino ad allora allora ci si rifà a un mondo sconosciuto se ne rimpara la lingua se ne raccolgono i frammenti di stato e di vero i pezzi di antichità e machiavelli e diciamo il genio che capisce questo che capisce questo e capisce come ogni volta vero ci sia la lotta dell'ideologia che nasce contro quella che perde e che verrà distrutta che verrà elaborata e verrà cancellata non si va avanti nella storia senza senza dimenticare senza questa diciamo la storia è una macchina la storia come come materia è una macchina per dimenticare non è una macchina diciamo che ci infarcisce che ci deve infarcire di conoscenze la mente se non che cosa posso dire che appunto la chiave della speranza è decisiva quando marx pensava ai alla classe operaia come colei che avrebbe liberato il mondo aveva in mente una gente una gente preciso e sappiamo che cosa ha fatto quella gente ma oggi è finita oggi è finita abbiamo davanti dei frammenti di umanità che fanno compiti limitati guadagnando pochissimo spossessati completamente vero di una loro come dire di un loro contributo alla merce che comparirà sul mercato come un feticcio senza storia portato da un ente diciamo che ci domina una grande entità multinazionale che ci porta la merce a casa e ci va a dimenticare tutto il resto perfino perfino i prodotti della campagna sono impacchettati senza che si possa tenere conto di che cosa è successo della natura nel lavoro del contadino ecco la speranza è legata alla presente disperazione del mondo la generazione che ha vissuto questo periodo in cui siamo ancora immersi ha sperimentato fino in fondo la durezza della natura e della storia spossessata di tutto le è stata tolta la speranza le viene tolta la cultura le si chiede di essere abile a esercitare determinate funzioni che altri le indicheranno non deve ragionare tutto il sistema scolastico è legato al sistema delle domande a crocette non so se si è mai riflettuto abbastanza su questa passività imposta chi risponde in maniera personale viene redarguito perché deve rispondere con la risposta prevista lui deve indovinare che cosa gli si chiede e adeguarsi obbediente a quello che gli viene richiesto credo che ci sia un momento finale in cui marzo immaginava appunto che tutte le ricchezze fossero confluissero nelle poche mani vero di alcuni pochissimi vero padroni del mondo e a quel punto il rovesciamento sarebbe avvenuto facilmente come un parto naturale della storia oggi forse vale la stessa speranza cioè che il limite della miseria del mondo il limite diciamo della sofferenza vero che non ha più limiti vero che è capace di riciclare perfino vero nelle menti distorte da informazioni sbagliate collocate da qualcuno perfino capace di rendere di nuovo un progetto quello nazista dell'eliminazione degli ebrei intorno vero come dire primo levi aveva immaginato che nel lontano futuro sarebbe potuto accadere di nuovo ebbene non aveva immaginato che sarebbe accaduto così presto così improvvisamente davanti a questa condizione terribile dell'umanità impoverita anche dalla ribellione della natura devastata non a caso vero dalla forza espansiva del neo liberismo davanti a questo forse il massimo della infelicità può armare qualcuno le masse perché si ritorni alla politica non a quella versione ridicola penosa diciamo che abbiamo sperimentiamo adesso ma la politica come speranza come costruzione umana della storia e allora ritornare alla storia non sarà un problema dei professori sarà una conquista di massa senza la quale anche i professori probabilmente resteranno sempre più isolati e sempre più prigionieri di un esercizio raffinato bellissimo esaltante per i privati ma del tutto inefficace nella vita della realtà posso attaccarmi al considerazione che hanno fatto prima massimo bucciantini adriano in questa bella riflessione ad alta voce nel libro si legge esattamente così è una riflessione ad alta voce balletta in questa chiave con questo registro direi quasi sono state evocate varie cose la rivoluzione informatica certamente questo nodo che ha rotto anche qualcosa che immagino ad adriano prosperi come a me che vengono una situazione sociale simile sta molto al cuore cioè c'è il rapporto col passato e anche con la memoria a qualcosa di neolitico la mutazione antropologica su questo sta incidendo profondamente un giorno qualcuno probabilmente scriverà un libro su che cosa ha significato la fina del neolitico io ancora un libro così si parla di antropocene si parla di mutazione antropologica ma il passaggio soprattutto in italia vorrei vedere cosa succederà in cina nell'arco di pochissimi anni dalla società contadina una società post industriale se ci pensiamo si è consumato in meno di un quarto di secolo che questo abbia creato dei problemi con la memoria e con la rottura della trasmissione di memoria tra vecchi e giovani no questa era una cosa che chiunque come me e altri sia se nasce in una famiglia contadina oggi è un'esperienza difficile da fare ma insomma lo sapeva che si raccontava a casa si raccontava si trasmetteva la memoria dai nonni perlomeno la memoria degli ultimi cento anni si trasmetteva e prendeva la forma quasi di una storia nel senso di un racconto ma anche nel senso di una collocazione delle proprie vicende nella storia più generale un po come nella storia di elza morante per intenderci no quel naufragio della del neolitico il passaggio nell'arco di pochissimo tempo soprattutto non non ovviamente nella gran bretagna o in germania ma certamente in molta parte del mondo dal neolitico al post industriale è qualcosa che viene evocato nel testo e che secondo me ha un'importanza fondamentale c'è poi ovviamente la trasmissione velocissima dei dati che viene fuori dagli schermi e che la vicenda del covi da anche questo compare ma magari ci torniamo dopo accelera in questi giorni c'è la cancellazione del lavoro lì viene citato appunto il fare contro l'agire no si cita natoli ma in realtà è la rent insomma che c'è dietro c'è la vita attiva c'è quell'idea della rent che rifletteva sul mondo industriale sull'alienazione del lavoro nel mondo industriale ma oggi siamo ben oltre anche questo cioè siamo davanti all'invisibilità del lavoro che vuol dire le badanti che entrano nelle case ed escono le donne delle pulizie che entrano nelle università nei luoghi di lavoro ed escono senza magari neanche un saluto da chi ci sta ci lavora ci studia al ad amazon noi non vediamo cosa succede nei magazzini i magazzini sono delle fortezze cioè lo sono molto più delle fabbriche di inizio ottocento per certi aspetti noi non sappiamo come avviene il lavoro non vedere il lavoro anche questo è un effetto del neoliberismo e anche questo ha un come dire crea un problema di narrazione di identificazione con una collettività questo ha contribuito alla rottura del rapporto frecondo tra storia memoria oblio potremmo anche mettere l'oblio che qui in queste pagine viene richiamato attraverso un nodo fondamentale anche questo citato prima da adriano ma in parte anche da massimo buciantini cioè la crisi dello stato nazione ora sappiamo che lo stato paolo prodi lo detestava per dire ma non era l'unico si può detestare lo stato nella misura in cui il nazionalismo ha prodotto gli effetti che sappiamo nella misura in cui si è trasformato in un leviatano tra l'otto e il novecento però lo stato ha avuto anche una funzione di freno diciamo così alla alle forze espansive e impalpabili del denaro diciamo così il cosmopolitismo diceva balzac nel curato di tour è qualcosa a cui le persone comuni non sanno rivolgersi cioè c'è qualcosa di neopanglossiano diciamo in quest'idea che la globalizzazione avrebbe prodotto per tutti una nuova identificazione non è così gli esseri umani hanno bisogno di una comunità il problema è come non trasmettere un'idea di comunità che sia razzializzata esclusiva violenta che era anche il nodo di un personaggio centrale delle pagine di questo libro di adriano che renan l'autore di quello che oggi si chiamerebbe uno speech una conferenza tenuta al college de france mi pare nel 1882 e renan parlava della nazione come un plebiscito quotidiano non c'è l'idea che si aderisse a qualcosa di comune questo qualcosa di comune era era il patrimonio anche comune un patrimonio che non doveva essere etnicizzato e che per non essere etnicizzata aveva bisogno di dimenticare il passato aveva bisogno di dimenticare se uno era franco se uno era gallo se uno era mero vingio da dove veniva come fosse approdato dentro una comunità che cancellava anche le cose che era bene cancellare diciamo poi la francia ha imparato molto bene a farlo non meno dell'italia gli orrori della guerra di algeria la nascita dell'antisemitismo a fino ottocento e via discorrendo le domande che sorgono ho tentato di dire in due parole alcuni punti che sono ovviamente trattati in questo libro molto meglio di come è stato detto da me ma si pongono una serie di questioni intanto si ha un diritto a distruggere il passato anche la distruzione delle statue recenti un fenomeno molto che viene evocato a un certo punto nelle pagine di questo testo ci sono nuovi gruppi diciamo che negli ultimi 40 anni le donne gli omosessuali ma anche per usare il caso degli stati uniti è stato fatto mi pare un ministro ieri che viene dalle popolazioni indigene americane si ha diritto a distruggere in una certa misura del passato c'è l'iconoclastia nei confronti del passato anche qualcosa che permette di evolvere non dobbiamo avere paura soltanto della se non altro dei simboli dei luoghi di una certa memoria no eh l'atto di di abbattere qualcosa l'abbiamo visto anche di recente è un atto salutare diciamo così no si ammazza qualcosa perché nasca il nuovo non si ha un diritto a distruggere la memoria ce l'ha per esempio anche la generazione nuova si suppone che i giovani non abbiano un rapporto con il passato però può capitare di di sentire che alessandro barbero ha un milione di followers cioè più di un rapper o di un in questo momento cioè c'è una domanda di storia dal basso che continua ad esistere che è una domanda di senso e vale anche per le persone di vent'anni in questo mi sentirei di essere meno pessimista della derano prosperi il problema è che ne facciamo di questa domanda e che ne facciamo della volontà anche di dobbiamo come dire imbarazzarci davanti alla possibilità che qualcuno distrugga una certa memoria o anche questo non ha una funzione vitale in una certa misura io penso che ci sia un diritto anche a distruggere parte del passato proprio perché bisogna andare avanti è una funzione fondamentale quindi intanto eh mi fermerei su questo poi magari dopo vorrei due ultime cose prima di chiudere ma insomma non il rapporto appunto con come dire lo sprofondamento dello stato con che cosa ci si può identificare come si può evitare un'identificazione che diventi identità esclusiva come in tutto questo si può avere un rapporto di distruzione ma anche di domanda sul passato buono per le nuove generazioni risponde immediatamente o diamo la parola massimo non so no no adriano se vuoi rispondere va benissimo altrimenti mi riallacciavo alle ultime parole di di vincenzo su sul punto la distruzione del passato o meglio vincenzo giustamente dice abbiamo assistito tantissimo alle distruzioni di una parte del passato qui la storia è completamente diversa cioè qui siamo di fronte alla distruzione totalizzante del passato questo è un salto e una discontinuità cioè è veramente un nuovo paradigma questo è anche su questo adriano prosperi dedica alcune pagine al saggio di kun e a come in qualche modo la riflessione della scienza può essere utilizzata anche dallo storico no cioè qui siamo di fronte veramente a una cosa imprevedibile rileggendo il saggio di osbano eh che è un saggio non tutto bello devo dire ci sono delle parti lunghe e a volte noiose eh però ha il grande merito di aver fatto quello che tutti voglio sappiamo insomma di avere eh il capitolo finale si intitola verso il terzo millennio ecco rileggerlo oggi non ha nessun senso il capitolo eh cioè non è non c'è proprio nulla di quelle indicazioni non dico profetiche i profeti come dice eh primo Levi non bisogna mai fidarsi dei profeti e lui se ne intendeva molto più di noi e molto più di me eh è che quel verso il terzo millennio è un capitolo completamente inutile a leggerlo oggi ma direi di più eh pochi anni prima era uscito l'ultimo libro di Italo Calvino e cioè eh dove il titolo o almeno il sottotitolo delle lezioni americane era appunto verso il terzo millennio eh beh se uno legge eh e interpreta cosa che non bisogna fare secondo me quel libro come un libro profetico ma come un grande libro di letteratura ma se uno lo interpreta cercando di capire il nuovo secolo il nuovo millennio beh eh rapidità e leggerezza vanno oggi in una direzione molto molto diversa e da questo punto di vista Adriano Prosperi eh eh dichiara ma c'è stato altro da allora ecco eh è un commento molto secco di Adriano su questo ma molto puntuale come dire insomma quello è un grande libro è un libro che va letto perché è un grande libro di letteratura ma la sua previsione è completamente sì fuori luogo sbagliata eh che non va nella non va nella direzione di quello che viviamo ecco su questo volevo chiedere a Prosperi eh non una battuta secca ma un commento eh su questo punto sì purtroppo il commento è che tutti i tentativi che facciamo per gettare lo sguardo sul futuro eh sono fallaci rispondono eh al nostro passato a quello che siamo abituati a quello che vorremmo vedere diciamo continuare nel futuro eh ma eh come abbiamo forse imparato studiando la storia eh come diceva Mark Bloch eh i giovani sono figli del loro tempo e non dei loro padri dai padri possono avere avuto moltissimo eh anche diciamo quel deposito di memorie che adesso non passa più ma eh restano eh liberi eh di una libertà eh totale eh totale perché non è prevedibile insomma e quindi il capitolo finale di Osborne è inutile leggerlo il suo libro è un libro secondo me che diciamo che diciamo che in cui l'autore è convinto in maniera commovente del fatto che avere combattuto per tutta la vita per un certo ideale in rapporto a certe forse sia stato il senso della sua storia e che con quella lui è vissuto e ha avuto una presa forte sulla vita la stessa presa che ha avuto Antonio Gramsci due grandi due grandi maestri in maniera diversa ma eh di una di un secolo di lotte che ha avuto la sua eh che ha avuto la sua eh progressione la sua eh violenza vero eh che però non non continua dopo di loro quindi niente niente profezia da parte degli storici non c'è la possibilità di essere profeti c'è soltanto la possibilità di eh così gettare appena uno sguardo sulle possibilità e ragionare su quello che hanno raccolto da da loro dalla loro esperienza del mondo cercare di far diventare il loro insegnamento qualcosa di simile a quello che avveniva appunto nelle vecchie case contadine dove il nonno raccontava della guerra di Libia il padre raccontava della prima guerra mondiale e così e delle lotte feroci e delle scelte ideali vero che allora si erano si erano fatte che poi si sarebbero pagate puntualmente questa è l'unica maniera perché si possa di nuovo recuperare quel rapporto cioè non c'è un'unica maniera c'è un bisogno della vita eh un bisogno elementare direi antropologico nel senso così della natura animale dell'essere umano di poggiare i piedi su un terreno di camminare in una direzione e a quel punto la la bussola viene necessario costruirla vero costruirla eh con tutti i mezzi possibili e trovarsi magari dietro a quella bussola con molti altri e cercare di andare avanti non ci sono non ci sono ricette che si ricavano dalla storia però diciamo bisogno di storia c'è è un bisogno elementare un bisogno elementare non è un'invenzione diciamo secondaria della cultura umana eh è una invenzione necessaria perché la somma dell'esperienza eh nel momento in cui si va a deliberare che cosa essere che cosa si vuole essere la somma dell'esperienza si riguarda si si rivolge al passato si rivolge al passato in maniera diciamo serena in maniera distesa o col balzo di tigre vero eccetera quindi ci sarà bisogno della storia ce n'è bisogno tuttora e questi dati sul sui followers che può avere uno storico sono effettivamente interessanti Vincenzo ha ragione l'importante è che si possa anche distruggere si può certamente anche distruggere anche perché se non lo facciamo se non lo fanno diciamo liberamente eh gli esseri umani qualcuno tra di loro lo fa per loro pensiamo per esempio alla sorte delle nostre ricchezze culturali eh qual è il sistema migliore per distruggerle? forse quello di farne eh luoghi dove si fabbrica eh il mangiare come ha detto volgarmente un volgarissimo politico dei nostri giorni eh alcuni anni fa con gli uffizi si mangia fu detto sì si mangia il che vuol dire che la venere di Botticelli eh servirà diciamo per il pasto di qualcuno ma non sarà più un cibo per tutti quindi eh quella è una distruzione quella è una maniera per creare dei monumenti che sarà necessario buttare di sotto cioè semplicemente ricollocare nella loro condizione di tracce del passato eh possibilmente facendone diciamo ricavandone una ricchezza vero di di percezione della durata dell'esperienza umana delle sue dei suoi prodotti delle sue ricchezze oggi se se riflettete diciamo la monumentalizzazione dell'arte è stata la maniera migliore per distruggerla completamente collezioni di miliardari americani bellissime vero furti d'arte da tutte le parti appropriazioni indebite casseforti che tengono nel loro nelle loro viscere diciamo i capolavori più ricercati vero vecchi nazisti che diciamo riconsegnano con difficoltà quello che avevano portato via quella è stata tutto distruzione cioè l'appropriazione privata indebita di un patrimonio dell'umanità e allora quel patrimonio deve essere dimenticato ci si formerà in altro modo però deve essere recuperato diciamo nella stagione di un'umanità redenta di un'umanità rinnovata di un'umanità che si che si mette alle spalle vero quello quello che eh che che ha trovato io penso che la distruzione dei monumenti sia effettivamente un tema eh Massimo lo ha analizzato molto attentamente essendo anche uno storico che si è dedicato alla costruzione di un monumento quel monumento a Giordano Bruno fu una grande invenzione di ragazzi che non avevano probabilmente nessuna idea di quali fossero le idee di Giordano Bruno inventarono il monumento e quel monumento fu un atto creativo eh che diciamo eh creò molte contraddizioni vero nei poteri che allora dominavano il nostro paese quindi i monumenti si fanno e si distruggono anche nell'ignoranza con la stessa energia con cui eh le tombe dei sovrani eh francesi vero furono il primo obiettivo delle folle della della grande rivoluzione e la rivoluzione è un passaggio necessario della della storia umana vero non si può naturalmente ritornare in questa illusione che fu della storiografia democratica eh del sistema delle rivoluzioni per cui si parte dalla rivoluzione papale si arriva passo passo fino alla rivoluzione sovietica eh no non c'è un ritmo delle rivoluzioni ma rivoluzione come cambiamento e questo credo che il tempo che viviamo appunto che che crea tanti lutti e tanti dolori però si risolverà come è accaduto anche con le pandemie epidemie del passato in grandi trasformazioni politiche e sociali non dubbio anche se l'impressione che la come dire la rottura del paradigma per dirla con cunno non sia ancora precipitata cioè non siamo davanti a questo eh siamo davanti a a un paesaggio più inquietante appunto per riprendere l'aggettivo che 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 Massimo rievocava attraverso Hobsbawm ehm c'è qualcosa di più inquietante ma non c'è ancora cioè ci sono le doglie del parto sono ben lontane c'è qualcosa che sta morendo ma non c'è ancora qualcosa che sta nascendo e qui la crisi della storia si colloca e della memoria si collocano entrambe piuttosto bene cioè c'è qualcosa c'è è un'epoca di crisi in un senso proprio un'epoca sella direbbe appunto cos'è un'epoca di passaggio in qualche misura eh un pranzo di galago è stato eh certamente certamente non è non è non è non è diciamo il massimo del piacere però c'è anche una dimensione diciamo incancellabile credo nella specie umana che è il legame il legame con le persone il legame fisico ovvero il legame tra vivi e morti eh sapete quanta quanta letteratura sia sia cresciuta sopra eh la storia della morte no tentativo reazionario rivoluzionario ovvero eh di fare la storia della morte no eh credo io credo cresce profondamente nell'esistenza di un nodo che lega i viventi ai loro morti eh è la base eh come dire antropologica fondamentale da cui nasce la storia eh il recupero eh dell'adulto ovvero nei confronti di coloro che sono alle sue spalle eh il misurarsi con loro eh nella consapevolezza che qualcosa si passa a chi continuerà questo probabilmente è la dimensione in cui il ricordo eh diventa vivo eh diventa storico anche Osborne in fondo eh nella sua grande la sua grande magistero di studioso e di uomo eh faceva continuamente riferimento a coloro che aveva conosciuto alle figure che aveva incontrato vero al senso al senso al senso di chi era rimasto alle sue spalle vero e di quelle lotte che avevano fatto insieme e lo stesso vale anche per la dimensione religiosa vero che sta cercando faticosamente una sua nuova forma e deve liberarsi di una quantità di scorie però diciamo la sua che ci ha provato nell'anno duemila no la dichiarazione delle colpe del passato e della memoria cioè la chiesa ha tentato di fare un'operazione per entrare nel millennio perché una comunità che per quanto piegata è ancora viva in una certa misura molto più di altre comunità che per chi sono in un'operazione per il risorse delle scorie è faticoso eh c'era un uomo del Cinquecento che ragionava sopra il dolore della serpe quando si libera dalla sua vecchia veste è un esercizio faticoso e doloroso però la serpe lo deve fare e la chiesa è come la serpe In qualche modo la sopravvivenza, con varie vesti, si toglie quella vecchia, ma togliersela è doloroso e dovremmo vedere ancora dei dolori di questo tipo. Però è una dimensione della speranza, dell'apocalisse o del ritorno al regno. Sono le due dimensioni che l'ebraismo e il cristianesimo ci hanno lasciato, queste due dimensioni restano in qualche modo connaturate nella specie umana, legate al suo senso dell'esistenza nel tempo. A meno che un giorno gli scienziati non scoprano il modo per rovesciare il tempo, come qualcuno sta tentando di fare, arrivando alla radice della immortalità umana. Per quello c'è ancora tempo. Non c'è tempo invece, se vedo bene, per la registrazione, con questo ingrato compito di stare attento a questo che mi è stato dato dagli organizzatori. Due battute finali direi, io me la cavo con poche battute, poi lascio la parola a voi a Massimo per un ultimo giro. Ci sono molte altre questioni che questo testo ovviamente solleva. Una l'aveva citata prima Adriano, era come l'Europa, questa Europa non sta riuscendo a costruire una memoria. E ha elaborato nel 2019 un documento in cui non c'è né Auschwitz, ma neppure Stalingrado, per dire, di due elementi fondamentali, perché c'è un tentativo di riscrivere la storia con un altro paradigma, soprattutto da quando l'Est Europa è entrato dentro la nostra compagine continentale, senza 50 anni di democrazia alle stalle. C'è il problema dei giorni alla memoria, lo si tirava fuori prima. C'è la Germania che compare spesso in questo testo. Thomas Mann, un'altra delle passioni di Adriano Prosperi, questo tentativo sempre di culturalizzare lo scontro, diciamo, con gli altri, che negli ultimi 70 anni non è emerso, ma è emerso certamente l'appello di notte a rimuovere il passato più ingombrante della Germania. C'è il nodo dell'Italia, delle leggi razziali dimenticate e dello specifico italiano. Ricordiamoci poi che l'Italia non ha mai davvero fatto iconoclastia neanche sui simboli del fascismo, no? E forse quello sarebbe stato un passaggio utile. C'è una riflessione sulle biblioteche, sugli archivi italiani, sui luoghi di conservazione della memoria. Sto elencando le cose di cui non abbiamo avuto modo di parlare. C'è il nodo appunto del cristianesimo distruttore che compare in Machiavelli, ma ricompare anche nella conquista dell'America. Insomma, no, sono stati i cristiani lì a riscrivere forzatamente la storia di altre parti del mondo, come ci si rivolge a queste parti. E poi c'è una riflessione finale sulla Chiesa, appunto, compare Bergoglio, nelle ultime righe, ma nelle ultimissime compare anche il Covid. E quindi il problema oggi, davanti al ritorno delle pandemie, di come ci si rapporta tra vivi e morti, ma anche con un passato che svapora ancora di più davanti alle macchine a cui siamo inchiodati, come stiamo facendo in questo momento, pur di continuare a mantenere un dialogo vivo con i nostri simili che spesso non incontriamo fisicamente. E queste cose che vorrei soltanto aggiungere, che c'è anche un bel confronto tra due storici, come Ernst, Nolt e Willian Reinhardt, che è un tema quanto mai cruciale e che in qualche modo prende spunto da una frase di Goethe che Adriano analizza, e cioè scrivere la storia è un modo per liberarsi dal passato, che è appunto nella copertina appunto del libro, con un punto interrogativo. E' appunto è possibile mettere una tietra sopra sul nostro passato. Credo che da questo punto di vista l'obiettivo forse è vero che è inutile il nostro lavoro. Su questo non serve a niente, ha detto Adriano Prosperi. Ma un obiettivo di resistenza minimalista secondo me occorre darselo. E rileggendo il saggio di Reinhardt, la fine del saggio di Reinhardt, si conclude con una bellissima frase di Thomas Beckett. E quindi vorrei chiudere questo mio intervento proprio e passare la parola a Adriano citandolo. Beckett parla del ruolo dello scrittore, ma Reinhardt dice non è solo il ruolo dello scrittore, il compito dello scrittore, ma è il compito anche dello storico. E Beckett scrive, praticare un foro dietro l'altro, finché ciò che vi è acquattato dietro, che ci sia o non ci sia, cominci a filtrare. Non posso immaginarmi un obiettivo più elevato per uno scrittore di oggi. Ecco, un elemento di ottimismo e di resistenza minima secondo me è necessario. E di delegittimazione, per dirla con Reinhardt. Se lo storico è inutile, è meglio che delegittimo. Certamente, la delegittimazione dello Stato e anche di... Dei poteri in genere, forse oggi il potere non è neanche lo Stato, certamente non è lo Stato. E citare Beckett, che è appunto il grande drammaturgo contro qualunque secolo solido, forse è la cosa migliore. Sì, la cultura critica è ineliminabile, credo, dal nostro campo di lavoro. Se, diciamo, non riuscissimo a decifrare gli inganni che avvengono, che sono sempre più complicati, ma anche nello stesso tempo più visibili e devastanti, denunciarli, sottrarsi, scavare dei buchi. Questo mi sembra un ottimo progetto per continuare a credere nella storia. D'altra parte, ci si può liberare dei monumenti, ci si deve liberare dei monumenti, bisogna scavarsi la propria strada. Nello stesso tempo però, ancora oggi, leggere Tucidide sulla peste di Atene è utile per ritrovare delle ricorrenze, soprattutto per leggere un grande testo, l'idea che si possa fare la storia, la linea greca che si avvia in quella maniera, mentre anche si avvia la linea ebraica con la Bibbia. i due grandi modelli che abbiamo avuto. Quindi il lavoro dello storico rimane sensato. Leggere la storia fa bene. Bisogna combattere con chi non vuole che questo avvenga. Bisogna combattere anche contro i limiti attuali dell'Europa, che sono limiti tanto più penosi perché si riflettono negli ulteriori e più gravi limiti e debolezze dell'Italia nel contesto europeo. Si viaggia in un contesto in cui le nazioni esistono, esistono gli stati, esistono perfino i poteri delle province, ci sono anche nel nostro piccolo territorio dei governatori. Come dire, il potere si è sfrangiato ed è nello stesso tempo un potere impotente. e le prospettive su cui vorrebbe reggersi l'Europa Unita sono magre, sono difettose, sono infisciate da una non digerita storia del passato che si cerca di ritagliare in funzione, ad uso un delfini si diceva una volta, in funzione dei poteri esistenti. è un campo di lotta, è un campo di lotta e noi non possiamo essere indifferenti, perché ne va di mezzo, diciamo, della sorte dei giovani. In fondo il nostro mestiere è quello di insegnare, insegnare con i libri, insegnare con le lezioni. Abbiamo un frammento di responsabilità nella crescita delle giovani generazioni. Quindi ricordare quello che è stato, ricordare i punti di riferimento, valorizzare le testimonianze come quelle di Liliana Segre, ritornare afflitti e pentiti sulle menzogne che abbiamo accettato anche noi nella nostra vita e di cui non ci siamo accorti. Pensiamo alle responsabilità delle leggi razziali italiane. Tutto questo è necessario, è necessario e qualcuno deve fare. È l'unica alternativa possibile al ricorso alla storia come una collana di bei racconti che possono deliziare l'animo, che possono accompagnare il pellegrino tra le bellezze del passato. Anche in questo ci battono i romanzieri, è inutile fare. E' inutile di turisti per rendere più felici gli introiti delle casse del museo. Ecco, tutto questo è necessario. Credo che la nostra funzione sia incancellabile. La nostra funzione, diciamo, quella che abbiamo esercitato nei limiti del possibile, è quella che voi e altri eserciteranno. Grazie. Grazie. Grazie.